buongiorno a tutti e bentornati di nuovo nel mio canale oggi prepariamo una pasta d'autunno super buona a base di broccoli con la precisione prepareremo una pasta broccoli e mandorle per questa pasta vi servirà mezzo broccolo che io ho già pulito e lessato 30 grammi di mandorle che io ho già tritato io li ho tritati finemente se vi piace sentire la granulosità della mandorla sotto i denti tritatela un po più grossolana della pasta io utilizzerò degli spaghetti qualche cucchiaio di olio extravergine d'oliva del pepe io utilizzerò del pepe quattro stagioni ho chiamato anche arcobaleno ma va bene anche del classico pepe nero e del sale è dimenticato mezza cipolla bianca in una padella abbastanza capiente andiamo a versare l'olio tre quarti delle mandorle che abbiamo tritato lasciamo nel circola manciata per la decorazione finale un po di pepe e adesso passiamo sul fuoco aggiungiamo i broccoli adesso che abbiamo rosolato il broccolo mettiamo a fiamma bassa con un coperchio e lasciamolo cuocere vi ricordo che il broccolo l'ho già sbollentato quindi la cottura non sarà molto lunga ma detto questo vado a mettere il coperchio e ci vediamo dopo ed ecco qui il nostro broccolo pronto se voi volete un risultato più grossolano adesso potete anche schiacciarlo con una forchetta io invece lo andrò a mettere in un robot da cucina e lo andrò a frullare ecco la nostra crema che è pronta vado ad aggiungere un po di sale e adesso possiamo pensare a cuocere la pasta la nostra pasta è cotta adesso aggiungiamo un po di acqua di cottura la pasta è cotta ben amalgamata adesso andiamo ad impiattare una manciata di mandorle tritate in superficie e una generosa tritata di pepe il nostro piatto è servito io adesso corro a mangiare perché è veramente tardi e che dirvi spero che questo primo piatto vi sia piaciuto magari è un modo per nascondere le verdure ai vostri bambini e farle gliele mangiare con più gusto io adesso vi saluto vi mando un grosso bacio e al prossimo video ciao